Il forum Risk Management, ovvero l'evento sviluppato da anni intorno alle tematiche del rischio clinico che da due anni si svolgeva all'interno di Arezzo Fiere, trasloca in terra fiorentina. La prossima edizione infatti si svolgerà alla fortezza da basso dal 29 novembre al 2 dicembre. Le strade dell'Arezzo Fiere e dell'evento sanitario creato dalla società Gutenberg guidata da Vasco Giannotti sono dunque pronte a separarsi, non senza però un pizzico di polemica. Per gli albergatori come per noi sapere di fatto con una mera comunicazione, quindi non chiamandoci a un tavolo dicendo ci sono dei problemi risolviamoli, ma semplicemente chiamando tutti a un tavolo dicendo siamo da un'altra parte, abbiamo già chiuso tutto e peraltro per essere sinceri già dal 23 di giugno erano arrivate comunicazioni con una data diversa agli operatori sanitari. Per noi che siamo stati partner e che sinceramente abbiamo messo la struttura e la faccia per salvare un evento soltanto due anni fa che altrimenti avrebbe chiuso, vederci attaccati e vederci soprattutto portati tra i papabili artefici di questo spostamento, beh su questa cosa non ci stiamo. Lo spostamento è solo dovuto alla volontà legittima di Gutenberg di guadagnare di più o di trarre giovamento dalla vendita dell'evento. Ci muoveremo sia dal punto di vista legale, se ci sono state violazioni, lo stiamo facendo analizzare, ci muoveremo dal punto di vista politico per capire dagli organi se vi sono stati a livello nazionale, regionale e a valli a questo spostamento e ci muoveremo dal punto di vista poi operativo per quanto riguarda, forse questa la dovremmo mettere all'inizio e sarà all'inizio, il riempire questo buco vuoto con un evento che faccia tra i due dire tra magari non quest'anno ma il prossimo, quello dopo, agli operatori però è andata bene. Comunque la porta rimane aperta perché noi siamo operatori di mercato. Noi avevamo bisogno e abbiamo bisogno di consolidare ulteriormente il forum come un grande evento nazionale e abbiamo bisogno per realizzare questo salto di salto di qualità nella città di Arezzo, non ci sono sembrati sufficienti, quindi abbiamo scelto quest'anno di andare a Firenze che anche dal punto per vista logistico offre ovviamente delle possibilità maggiori nella speranza che si possano creare le condizioni, poi come abbiamo detto voglio dire di tornare ad Arezzo che ovviamente essendo la mia città, la nostra città, il forum grazie all'investimento di Gutem è nato ed è cresciuto ad Arezzo, spero che possa tornare ad Arezzo dal prossimo anno. Basterebbe voglio dire che il centro affari, voglio dire, a Arezzo Fiere dedicasse il 10% di attenzione al foro risclamaggio di quello che dedica a loro perché già sarebbe un grande passo in avanti, voglio dire, per tornare ad Arezzo. Fino ad oggi non è stato così.